Stiamo andando a cercare vestito da spusa, eh, vestito da... Ma ora non la vinta mai da spusa. Vestito per... In Gileo Travel. Pubblicità, se non è che c'è il calocco viaggio, sto coso. Eh. Io faccio anche pubblicità nei negozi, vai. No, stiamo andando a mercati fuori ruota, vi porteremo a questo mercato, finalmente. Io ci vado spesso, sono abitué. Io non vado da anni, credo. Non è vero, non vado da Natale. Eh, dobbiamo dare il vestito per il compleanno di Gaia. E tu anche vestito da spusa, in questo momento. Io in realtà già ce l'ho in vestito. L'issimo carcere di Pozzuoli, dove finirò tra qualche paio di anni, secondo me. Ma che sottopare i omicidi di cocaguaglione, può darsi. E qui ancora Francesco continua a scrivere, non ha capito, non ha capito, non ha lasciato. Sì, sono un cazzo altro. Che marco. Ma fa segno melodica. Poi tipo, metto di nuovo a play quando arriverò nel mercatino. Se ce la faccio, sto sfruttando come un porco. Buona, buona sera. Buona sera, buona sera, buona sera, buona sera. Buona sera. Buona sera. Guarda il mio pullman, guardatelo. Questo pullman non passa mai. Passante, non passa mai. Cioè, non sta passando. E domani, a Napoli c'è la Gavulano. Buona il cavolo. La mia è mezza notte almeno. Eh, se facessi le mercatine di notte sarebbe l'ideale. Buona sera. Ma cosa è bella? La domani è così. Nooo. Ma cosa è bella la sera? Angela precisa in foot a Salerno. Era bello era stato. Ma è bella? Ancora, la ne faccio. La domani è con il pantacino. C'è la chiave. guarda con la bocca aperta ecco lo sto prendendo ma c'è una faccia di cazzo inquietante questa è in favore delle camera parliamo delle zuppe di latte e biscotti a me il biscotto non piace tutto cioè veramente il biscotto spugnato nel latte deve essere calloso tipo cornette in Nutella spugnato bello in un latte è proprio una cosa speciale siamo parlato di banane e la banana piace verde pure a me esiste proprio che non si scioglie un bucco bella tosta perché sembra quella la banana nera alcuni stanno fanno proprio nera città di zucchero però a me non piace città di zucchero a me non piace proprio la cosa zuccherina invece quando piace è un po' cracerbo che è tosta ma dove è il fracchino mi sto mangiando più le banane no perché Enza disse che si sognava a me che vomitavo banane quando mi faceva tutto fatto ciao Enza che mica fai c'è vuoi dire se stavate le gambe o no e che a me fa c'è io non lo so guarda c'è gente guarda che stanno ripalendo stanno tutto ringogliando c'è fuori grutto forse mi metto al giorno e sarebbe arrivata non mi dico sbagliato comunque sempre di dito e poi ti dico io sono a piedi parcheggio grande è una finezza adesso però questi qua di neoprene anche se mi ricordo agli anni 90 so perché che si portava il neoprene questo mi piace però è troppo semplice la mutanda ma mi piace lo trippino un po' più perizomato questo qua dovevi proprio immaginatelo adosso a Gaia mi piace questo tanto è carino questo invece che prezzo 100 però sotto mi piace il mio vestito di questo che mi comprando selvaggio una 44 io non troverò il costume quindi non andrò più a mare con un ragazzo se mi imiterà bravi capito questo ti piace ma veramente quando eravamo eravamo di mare no ma ti ha 49 come hai visto la 49 non c'è il pratico prezzo l'astrono mi si può regalire piccola